Ciao a tutti, oggi prepareremo il poncho al mandarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Ingredienti sono succo di mandarino, acqua, rum, zucchero e scorza di mandarino. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di mandarino. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il succo di mandarino. L'acqua. Il rum. Ed azioniamo il bimbi. Per 6 minuti. 90 gradi. Velocità 3. Il poncho è pronto. Servire subito. Poncho al mandarino. Si conserva in frigo per 3 giorni. Prima di servire, scaldare. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione!